Un'iniziativa di confronto fra le resistenze italiane e quelle delle donne kurde. Cosa possiamo imparare da loro e cosa possiamo applicare sul nostro territorio? Allora, io credo che possiamo imparare moltissimo da loro, nel senso che loro in questo momento stanno difendendo i loro diritti e anche il nostro diritto alla autodeterminazione in una lotta contro il patriarcato sostanzialmente. Io credo che dobbiamo partire da questo. Anche noi, che siamo un'associazione che lavora contro la violenza delle donne, credo che questo lavoro debba essere continuato nell'ottica di una vera lotta contro uno Stato che da più parti ormai viene definito fortemente maschilista e patriarcale. Io credo che questo deve essere un passaggio, che è il passaggio fondamentale che ci ha insegnato la donna kurda oggi pomeriggio. In cui viene applicata un'autonomia democratica? In quale modo? Allora, in Turchia in particolare, nel momento in cui il partito filocurdo, BDP, che era il Partito per la Pace e la Democrazia, ha iniziato a ottenere parlamentari e rappresentanti nelle amministrative, si è cominciato a mettere in pratica questo progetto che veniva messo in pratica in maniera illegale nella società civile e poi in realtà è entrato anche nelle istituzioni. L'esempio è la copresidenza uomo-donna, esistono cosindache e cosindaci in tutte le municipalità in cui il partito ha avuto la maggioranza, ma non soltanto questo, comunque esiste una politicizzazione delle persone, quindi lotta contro le grandi opere che possono essere le dighe che vanno a distruggere il territorio, a sommergere interi villaggi, quindi tutti i progetti che le municipalità mettono in pratica sono intesi in quella direzione. la possibilità della popolazione di organizzarsi, delle donne di organizzarsi, quindi le associazioni delle donne, le case delle donne, i centri antiviolenza che vengono chiamati centri di solidarietà fra le donne, quindi non soltanto antiviolenza ma dei posti in cui le donne possano solidarizzare fra di loro. E quindi tutto quello in cui è possibile intervenire si basa sul fatto della possibilità di autodeterminarsi, quindi la possibilità dello studio della lingua kurda, appunto la partecipazione delle donne, l'ecologia e la partecipazione diretta della popolazione. In Turchia questo viene fatto con il limite di una grande ingerenza da parte dello Stato, la militarizzazione e il grande potere da parte delle prefetture, mentre nel Rojavan, nel momento in cui i kurdi sono riusciti a creare un'autonomia, a stilare un contratto sociale in cui mettevano per iscritto quali erano i principi attraverso i quali si univano e decidevano di gestire quei territori, a quel punto è stato messo in pratica in maniera più visibile a tutti e quindi le copresidenze sono accettate, esistono accademie delle donne, per esempio la genealogica è una scienza che è stata formulata ancora anche questa volta da Ojalon ma che comunque è stata creata dalle donne con il partito delle donne, con l'accademia delle donne, viene insegnata nelle scuole, ci sono le cooperative di donne e le cooperative comunque sono il metodo di produzione e di lavoro in tutto il Rojavan, però non le cooperative che noi conosciamo, ma appunto un mettersi insieme e un produrre quello che serve secondo le necessità e dividersi i proventi di quello che si produce a seconda di quello che la popolazione ha bisogno, ma senza un intervento dall'alto di decisione di quanto si deve produrre, quanto si deve prendere, quindi sempre rispettando le differenze, quindi tutte le lingue, tutti i popoli che vivono in quel territorio hanno la possibilità di avere la istruzione di lingua madre, e tutti i credi religiosi hanno la possibilità di professare la propria religione, perché appunto si parte da una negazione, un'assimilazione di tutti questi popoli in quei territori e quindi le prime cose che sono state messe in pratica sono queste. Poi anche la ricostruzione delle città viene fatta secondo metodi ecologici, attraverso le decisioni in comune, il sistema sanitario, il sistema giuridico, non esistono dei tribunali veri e propri che prendono delle decisioni secondo la giurisprudenza, come conosciamo qui, ma si risolvono le conflittualità, i problemi di volta in volta con l'intervento della comunità mettendo a confronto la parte lesa e la parte che ha compiuto un reato. In quel caso si cerca sempre di trovare una soluzione così, e questo deriva dal sistema dei clan, delle tribù, che in Kurdistan in realtà è riuscito a sopravvivere per il fatto che sono stati negati, non sono stati riconosciuti come cittadini di uno stato che riconosceva soltanto il turco, il turmano, che parlava la lingua turca e quindi non si sono mai riferiti troppo allo stato per risolvere le problematiche, per cui può aver portato a volte a un'arretratezza, ma ha portato anche a un'esperienza di sapersi gestire tra le persone che vivono in un certo territorio. Un'iniziativa sulle resistenze delle donne. La nostra resistenza ha riconosciuto in primo luogo la lotta armata e poi un lavoro che le donne hanno fatto. Quali sono le figure più rappresentative e qual è stato questo tipo di passaggio? Sì, allora dal punto di vista storico, le prime donne che sono state riconosciute come partigiane sono quelle che sono state più collegate appunto al movimento armato, al fatto che alcune donne hanno appunto imbracciato le armi e sono state ai fianchi dei partigiani. E solo di recente, negli ultimi vent'anni, la storiografia ha riconosciuto il fatto che invece anche tutto il lavoro di resistenza civile, che ha visto un lavoro fondamentale da parte delle donne, per esempio nel dire scioperi, nel fare anche delle azioni di aiuto all'interno appunto del tessuto sociale sia stato fondamentale soprattutto appunto per creare le prime basi appunto di una consapevolezza di cittadinanza che sono poi le basi appunto della democrazia che si è sviluppata dopo la guerra. Parlando invece della resistenza delle donne, appunto accademie delle donne, casa per le donne, partiti che si organizzano al femminile, in questo senso c'è stata una grossa azione di scardinamento culturale oltre che possiamo dire culturale e politica. Appunto come nasce, noi qui abbiamo un'idea che è filtrata dai mass media e quindi le donne combattenti, donne combattenti che potevano essere anche nella nostra resistenza. Però lì c'è un movimento, come posso dire, che è un'azione più profonda a livello culturale. Ecco, cosa si fa e come nasce il movimento delle donne? Il movimento delle donne, col fatto che nel PKK c'erano già le donne, le donne hanno lottato, hanno resistito alle torture in carcere, si sono organizzate, hanno dimostrato di essere in grado a volte anche più degli uomini, di resistere e di lottare e di autodeterminarsi e di organizzarsi. Piano piano le donne sono aumentate nel PKK, anche perché in quel territorio comunque esisteva un'arretratezza e un sistema feudale che le opprimeva, che gli faceva violenza, i matrimoni forzati, il fatto di non essere chiusa in casa, la casalingizzazione, la chiamano già anche la prima forma di schiavitù che viene fatta nella storia. E quindi molte donne hanno partecipato al movimento, nel momento in cui sono cresciute hanno anche portato le proprie istanze e il proprio contributo. E quindi quando ci si è resi conto che esisteva una forte presenza e una forte lotta che doveva essere affrontata in maniera separata, è stato fondato un partito delle donne. Ha cambiato il nome diverse volte perché all'inizio era molto più improntato sul Kurdistan, poi ci si è accorti che si doveva parlare di una lotta universale di genere e quindi si è creato un partito che non aveva più la parola Kurdistan al suo interno ma che riuniva le istanze delle donne di liberazione. Sono state create le accademie, sono state create le formazioni in cui si cercava di uccidere il maschio dominante sia all'interno dell'uomo che all'interno della donna e quindi gli uomini partecipavano a queste formazioni per capire come questo sistema egemonico patriarcale aveva influenza sulle proprie vite. Quindi il fatto di mettere sempre in pratica quella che era l'ideologia con la propria vita, mettere in discussione come si metteva in pratica quello che si professava ha fatto sì che piano piano le donne abbiano avuto sempre più spazio e a quel punto nel momento in cui le donne non avevano delle proprie unità di difesa le donne diventavano sempre delle sottoposte agli uomini, non avevano avuto nella storia la possibilità di fare esperienza in alcuni ambiti, non solo quello dell'autodifesa ma in quel caso era proprio comunque palese che in tutto il mondo le armi sono sempre state considerate un dominio maschile che l'uomo doveva difendere la donna e quindi prendere le armi per difendersi significava non essere più un oggetto da difendere ma essere un essere umano come gli uomini che nel caso in cui viene attaccato o viene messo a rischio di un danno grave o di morte si deve difendere.